Adesso andiamo prima a guardare insieme l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Bentornati all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dei gemelli nasceva uno dei più importanti musicisti di ogni epoca, del periodo del romanticismo. Nel 1813 all'Ipsia nasceva Richard Wagner. Richard Wagner nasce da papà Carl Friedrich, giurista e attore, e mamma Joana Rosin. Dopo sei mesi dalla nascita, Richard Wagner rimane orfano di padre. Sua mamma si sposa con il poeta e attore Ludwig Geier e i Wagner si trasferirono a Dresda. A 16 anni Richard Wagner assistette a una rappresentazione del Fidelio di Beethoven e da quel momento decise di diventare compositore. Inizialmente si formò da autodidatta e si cimentò con delle piccole composizioni molto rudimentali. Dal 1831 per soli sei mesi, pensate, prese lezioni di composizione presso Christian Theodor Welling, al quale dedicò la sua prima composizione suonata per pianoforte in si bemolle maggiore. Dopodiché si dedicò esclusivamente alla composizione. Nel 1833 iniziò a comporre Le Fate, Il Divieto da Mare ed Al Rienzi, svolgendo anche l'attività di direttore musicale del piccolo teatro di Magdeburgo. Conobbe la cantante Mina Planner che sposò nel 1836 e dal 1937 divenne anche direttore d'orchestra. Poco dopo il teatro fu costretto a chiudere per eccesso di indebitamento. Per sfuggire ai creditori fuggì in modo rocambolesco, barcando di nascosto il confine fra Russia e Prussia e si imbarcò con Mina su un piccolo veliero alla volta di Londra. Mentre assisteva ad una tempesta sul mare durante il viaggio, gli venne l'ispirazione per comporre l'olandese volante. Trascorse gli anni dal 1839 al 1842 con grande difficoltà economica a Parigi. Per sopravvivere dovete vendere, pensate, le fedi nuziali e anche trascrivere dei brani per bande. In quegli anni difficili porta a termine però la stesura di Rienzi e l'olandese volante, che porterà una svolta alla sua vita. Grazie allo stile grande opera francese del Rienzi, riscosse un grande successo che gli permise di ottenere il posto di direttore d'orchestra dell'opera di Dresda. Avvenimento che per sua moglie Minna costituì l'inizio di una brillante carriera. Però il giovane Wagner a Dresda si sentiva veramente prigioniero in un mondo che odiava. Specchio di un'arte legata al conformismo dell'epoca, nonostante il compenso annuo di 1500 talleri, che facevano la gioia di Minna e della sua pacifica vita borghese. Nel 1842 Richard Wagner in un albergo di Berlino conobbe Franz Lierz e Hans von Bulow, che entrambi divennero amici e grandi ammiratori della bellissima musica di Richard Wagner. Nel 1848 Wagner fu coinvolto nella rivoluzione, che lo vide erigere barricate a fianco del filosofo rivoluzionario Bakunin e membro del governo provvisorio. Bakunin venne arrestato e condannato a morte dalla polizia reale e Richard Wagner decise di andare a Zurigo in esilio prima dell'emissione del mandato di cattura nei suoi confronti. Il suo amico Franz Liszt gli donò 300 franchi per poter affrontare le spese in esilio a Zurigo. E a Zurigo iniziò una vita relativamente stabile. In questo periodo d'esilio a Zurigo conosce Matilde, che le dedica cinque poemi musicali. Wagner dovette lasciare la Svizzera per la grande gelosia della moglie e del marito di Matilde, per questa grande amicizia. Nel 1861 ritornò in Francia su intercessione di Napoleone III, portando il Tannhauser, ma venne accolto come un genio esuberante, invasato e senza scrupoli, che osava stravolgere il gusto francese per la musica tutta arie e balletti, sostituendola con una concezione assolutamente nuova. Lasciò Parigi il 15 aprile e dichiarò questo. Non ho nulla in vista e non sono atteso da nessuna parte. Sono libero come un uomo fuori dalla legge. Tutto è fondato sul caso. Un'altra dichiarazione un po' triste A 50 anni devo sapere di che viverò. Guardo innanzi a me e sono profondamente stanco di vivere. Una lieve spinta ed è tutto finito. Richard Wagner morì a Venezia il 13 febbraio del 1883 per infarto. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti! Ciao a tutti!